Siamo qui con Guatieri che oggi trova l'assist per il gol di pistola, poi trova il gol personale. Che partita vi eravate preparata così e così volevate giocare? Sì, sapevamo che era una partita sicuramente difficile contro una squadra che in classifica era sotto di noi, però abbiamo cercato di prepararla nel migliore modo possibile e alla fine ci ha dato ragione il modo in cui l'abbiamo preparata noi. Io obiettivi personali non me ne pongo, cerco di fare sempre il meglio possibile, soprattutto per i miei compagni, per la squadra, la società che se lo merita. Come ho detto prima, obiettivi personali non me ne pongo, l'importante è che ci tiriamo fuori da questa situazione che è migliorata di tanto e l'importante è la squadra, i miei compagni, la società, il mister, siamo noi alla fine, questo è l'importante, non sono io come Pietro, l'importante è la società. Ognuno già va in campo e cerca di vincere tutte le partite che può vincere, le più possibili ovviamente. Poi c'è anche l'avversario, più forte, meno forte, tante situazioni che una partita può dare, però non andiamo in campo per vincere tutte le partite, poi la palla è rotonda. A quella vi indi! Grazie.